Eccoci, siamo 21.11, siamo tornati, Bonaccini ha D'Alemato, però ha fotografato anche lui una situazione piuttosto difficile da gestire da parte di Eilish Line. Ma guardi, io preferisco Campo Gagliano al Campo Largo, perché poi è una definizione che dice tutto e dice niente. A me di Renzi, di Calenda, di Bonelli, di Frattoiani, di Sani Bonaccini mi interessa molto poco. Ecco, credo che ci debba interessare, come ha detto D'Alema e condivido, se ci sarà convergenza sugli argomenti. Perché è su quello che fai le alleanze, non sulla somma di addendi che in politica non sempre 2 più 2 ad esempio risulta fare 4. Quindi io credo che dovremmo ragionare sulla costruzione, mi permetta, non di un fronte contro la destra, che lo si dà per scontato, ma alternativo alla destra, che è un'altra cosa. E avere un'idea di paese, non solo contro qualcuno, ma a favore di qualcun altro e di un'idea di società. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. In Emilia-Romagna, in Umbria, staranno insieme tutte quelle forze politiche che state citando. In Liguria mi auguro che si trovi una convergenza. E gli elettori, come hanno fatto alle ultime amministrative, dandoci fiducia in quasi il 70% dei comuni, nei quali in gran parte si andava da Italia Viva ai 5 Stelle, ci hanno dato fiducia. Ma noi non sappiamo chi saranno i leader dei partiti o partitini fra sei mesi, soprattutto dei partitini, perché la politica cambia molto rapidamente. Quindi cercherei di stare ai contenuti e non ai nomi e cognomi. Il PD è un partito che spesso, in passato, parlava di nomi e cognomi. Quando parli troppo di nomi e cognomi ti rimane poco tempo per parlare di contenuti. Ai cittadini interessa poco il nostro destino, gli interessa cosa vogliamo fare del loro. È una saggia posizione, però Ammieli, la storia...